Si è conclusa con la vittoria dell'opera La Barca di Leone e Guarda, la 26esima edizione di Torano Notte e Giorno, decima edizione premio Franco Borghetti, intitolato ad uno dei padri fondatori della Rassegna. Durante l'ultima serata nel Borgo dei Cavatori, turisti e cararesi si sono avventurati tra le piazzette e i vicoli per vedere le opere tra le gioiose installazioni dei residenti ispirate al film e romanzo La Fabbrica di Cioccolato. È grande soddisfazione per la manifestazione perché è stata un fiume di gente tutte le sere, ognuno interessato a una parte di Torano, chi all'arte, chi ai salotti, chi alla musica, al teatro, grandi coinvolgimento del paese, veramente una grande euforia, pronti già a partire per quella del 2025. A intrattenere gli ospiti, l'artista Marianne Ablier che ha scolpito la sua opera La Pietra dei Sogni, e ha preso parte una performance live insieme alla fotografa Paola Cassola. Abbiamo creato con questa scultura, Marianne Ablio, un incubatore dei sogni di tutti gli abitanti di Torano e della zona che hanno voluto lasciarci un sogno durante tutto il festival e oggi abbiamo cercato di manifestare questi sogni con questo intervento live.